Ciao bimbi belli, sono la maestra Sonia. Vi va di fare un bel lavoretto? Questo è l'occorrente. Dei colori acrilici, un pennello, delle formine per dolci, un cartoncino oppure una busta e della carta argentata a forma di pallini. Come primo passaggio fate il cielo con la carta stagnola, poi il prato. Dopo appoggiate le formine sulla busta e riempitela di colori. Con un tappino fate tanti pallini sotto al prato. Dopo togliete tutte le formine. Guardate che bel lavoro che state facendo! Con un coton fioc fate tanti puntini sulla farfallina. Fate degli steli. E infine passate con il giallo i contorni dei tre fiori, dal più piccolo al più grande, alla farfallina e intorno al prato. Se avete un bel fiocco giallo ce lo mettete su. Lo potete regalare anche a mamma. Ciao bimbi, vi voglio bene! Buon lavoro! Buon lavoro!